Le stringenti misure per il contenimento dei contagi da Covid-19 stanno condizionando, in questi giorni, il tradizionale programma per la commemorazione dei defunti a Bitonto. Per agevolare e diluire l'afflusso dei cittadini ai cimiteri inferiori rispetto agli anni scorsi, l'amministrazione comunale ha infatti programmato, per tutto il periodo della commemorazione dei defunti, l'apertura con orario continuato, dalle 7 alle 17.30. Sicuramente più presenza da parte dei vigili del Comune di Bitonto e buona parte dei ragazzi della protezione civile che si sono impegnati affinché non ci fosse comunque un contingentamento all'interno del nostro e del cimitero, ma che ci fosse un controllo maggiore. Per la ricorrenza, dedicata a ricordo dei propri cari, i cimiteri del centro urbano e delle due frazioni di Palombaio e Mariotto, inoltre, sono stati oggetto in questi giorni di diversi interventi. Abbiamo già proceduto con delle accensioni sia all'interno delle confraternite sia con dei led esterni per illuminare tutto l'intero cimitero. Ci sono state anche delle prove tecniche affinché la nuova ditta giudicataria, affidataria del progetto possa poi intervenire con un progetto esecutivo. Lo stesso abbiamo fatto per le frazioni, le lampade evotive attualmente sono accese perché stiamo adeguando gli impianti esistenti affinché poi ci sia un nuovo e proprio progetto sul quale poi inizieranno i lavori successivamente. L'assessore ha anche parlato dei futuri interventi per la fruibilità dei cimiteri cittadini. Sarà risistemata la chiesa, verrà messa una impermeabilizzazione sulle edicole dell'ultima parte del cimitero là dove saranno poi posizionati i pannelli fotovoltaici. Dovremmo portare entro la fine dell'anno, dovrei portarlo in giunta con il sindaco, con Mariotto, sia i locali delle due frazioni di Mariotto e di Palombaio.